In sua memoria le due comunità hanno realizzato una raccolta di fondi per finanziare la costruzione di un pozzo in tovo per padre Francis, già conosciuto bene da Don Davide. Per il Mali le parrocchie hanno raccolto fondi per finanziare 60 borse di studio per quest'anno. È solo uno dei tanti semi che sono germogliati grazie all'opera instancabile di Don Davide Schiavona. Per questa comunità da parroco, poi da direttore della Caritas e Trevigiana, con le tante iniziative della Casa di Carità. E oggi la sua casa l'ha voluto ricordare ad un anno dalla scomparsa, con la presenza sull'altare della cappellina nella foto con Papa Francesco. Tante le testimonianze d'affetto e stima lasciate su questo libro in un continuo, con quelle scritte su questi bollini nella stanza dove un monitor racconta l'impegno quotidiano di Don Davide, non solo nella diocesi, ma ovunque nel mondo ci fosse stato bisogno del suo aiuto. Importante l'eredità che ha lasciato al suo successore Don Bruno Baratto. Quella che continua è quella che vediamo qui intorno, l'opera segno che è la Casa della Carità, ma è anche tutta una serie di relazioni e di impegni con le Caritas parrocchiali, con la diocesi intera, come è statuto di Caritas per la sua funzione pedagogica, ed è una eredità fatta soprattutto di relazioni. Ma Don Davide ha continuato a modo suo anche la missione di parroco, con l'impegno nelle chiese cittadine di San Pio X e Santa Maria del Rovere. Qui oltre all'altare il suo sguardo era rivolto soprattutto verso i giovani. Lui incontrava i giovani e trasmetteva la paternità che è l'essenza del nostro essere preti oggi. Per questo Don Davide continua nell'impegno di chi l'ha conosciuto. È un'eredità di relazioni, relazioni che al di là della sua morte così improvvisa continuano a germinare, a generare e a portare frutto. E questa forse è l'eredità più significativa di tutto.